Buonasera mister Luigi Torrente, classe 1969, un trascorso di allenatore già all'AS di Cetara, conosciutissimo, amatissimo dal popolo di Cetara, soprattutto quello sportivo, torna nuovamente a sposare il progetto della squadra locale. Sì, perché mi è piaciuto proprio il progetto nuovo, questi nesti nuovi che sono entrati, e che mi hanno fatto ricredere di nuovo nel calcio che avevo perso un pochino. Innesti nuovi, parliamo chiaramente non di innesti calcistici, ma di innesti societari. A Nuova Compagine Sociale ha un progetto per il Cetara che è tutto nuovo, nonostante ci siano all'interno anche persone che hanno fatto parte del passato. Sì, siamo rimasti due o tre ancora del passato all'interno tranquillamente. Poi abbiamo preso il progetto anche della squadra del capitano, abbiamo anche aggregato a noi, perciò adesso si chiama squadra del capitano Cetara. Perciò il progetto che abbiamo creato è proprio di cercare di fare una sola cosa insieme alla squadra del capitano. Quindi una coesione anche tra Maiori e Cetara. E Cetara, esatto, sì, esatto. Ottimo. Quali sono i progetti, non dal punto di vista societario, ma calcistici? Noi siamo abituati con voi a vincere. Lo so, a me mi piace sempre vincere, sono sincero. E adesso è una squadra abbastanza giovane. Ho trovato una squadra veramente che già l'anno scorso erano dei ragazzi, parecchi di loro, già c'erano con la squadra dell'anno scorso. Io adesso ho aggregato qualche ragazzo, una vecchia guardia che conoscevo bene, proprio per far crescere questi giovani e cercare di fare meglio dell'anno scorso, che l'anno scorso abbiamo fatto un po'... Quindi si riparte dall'esperienza. Dall'esperienza, sì. Abbiamo aggiunto questi 4-5 elementi di esperienza proprio per accompagnare questi giovani, che sai, un ragazzo di 18-19 anni in queste categorie qua, hanno dei momenti che fare con gente di 35-40 anni, sai. Quindi molto più navigati, magari, che hanno fatto anche categorie superiori. Io invece con dei ragazzi di esperienza li facciamo crescere piano piano per portarli veramente a un livello. Che però, devo dire la verità, non mi dispiace la squadra, non è molto tecnicamente, sono bravo tutti quanti, devo dire la verità. Mancano poche ore alla prima partita, come si sente, mister? Come il primo giorno, quando è iniziato nel 2004. Non è anche il patentino, perché penso nel 2007 è il patentino. Perciò è come iniziare il primo giorno di scuola, di andare a scuola. È la stessa cosa. Grazie, l'emozione quindi è tanta. Sì, sicuramente. Io cercherò di non trasmetterle ai ragazzi, anzi di trasmetterci cose in positivo. E non far capire che pure io sono un po' emozionato. Perché comunque, anche che inizi dopo 2-3 anni, l'attività che non la stavi facendo, però ti dà quella cosa di emozionarti quando arrivi al campo dopo 2-3 anni che non allenavi. Quindi questa intervista la lanciamo dopo la prima partita. Incrociamole a dire, speriamo che va tutto bene, anche dopo la prima partita va bene lo stesso. L'importante è che i ragazzi rispondano e giocano per la maglia, che quello è fondamentale. Grazie mister, grazie e in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie.